Brugge 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 Posta azione Prendete l'area per spazio Area per spazio localizzata Granato partita Sto ricaricando Granato 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 Spari Posta dove spari Nemico Nemico Bersagli Nemico Portato Prossima postazione imminente Granata partita Granata partita Aria bersaglio aggiornata raggiungete la postazione Mi sparano addosso Scambio caricatore Lancio una granata Comando perso Granata 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 Nemico in zona Granata Muoversi Ricerca postazione State pronti Granata partita Granato partita Granata Sto ricaricando Nemico Nemico in zona Nesco 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 Scambio caricatore Nesco Nesco Giorgio Nesco Granata partita Sto ricaricando! Granata partita! Guarda dove spari! Guarda dove spari! Sto ricaricando! Sto ricaricando! Guarda dove spari! Granata partita! Versaglio avvistati! Punizioni qui! Aria bersaglio aggiornata! Mi sparano! Granata partita! Sono fico! Vici nel perimetro! Lancio un'attività! Disparso! Granata partita! Mi sparano addosso! Sto ricaricando! Granata partita! Postazione compromessa! Liberatela! Cerca postazione! Liberatela! Cerca postazione! Conquistate l'area avversario! Conquistate l'area avversario! Concento! Disparano addosso! Granata partita! Granata partita! Attenzione! Attenzione! Ho poche munizioni! Lancio una granata! Granata partita! Granata partita! Muoversi! Mi sparano! Mi sparano! Sostituisco il caricatore! Granata partita! Aria bersaglio aggiornata! Raggiungete la postazione! Cambio caricatore! Granata! Granata! Muoversi! Granata! 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 Perimetro! Lancio una granata! Granata! Granata partita! Sto rifericando. Ricerca postazione. State pronti. Lancia una granata. Granata partita. Comprometta. Liberatela. Stazione spostata. Conquistate l'area per il foglio. Non c'è una granata. Sparano, non c'è una granata. Dove spari? Non hai rupito i ghi. Granata. Cambio caricatore. UAV di disturbo è attivo. Prossima postazione in minarie. Fate fuori. Distruggere il bersaglio. UAV alleato in zona. Aria avversario aggiornata. Raggiungete la portata. Granata! Di granata! Muoversi! UAV di disturbo alleato attivo. Sto ricaricando. Granata partita. Li metti nel perimetro. Granata partita. Granata partita. Mi sparano. Occhio ai tuoi spari. Finchia postazione. State pronti. Postazione compromessa. Liberate. Lancia una granata! Il nemico guadagna terreno. Reagite. Protetto io! La situazione spostata. Conquistate l'area per il caldo. Quanto è che non sia cambiato? Non è buono! Parate un minuto. Uno in meno! Sostituisco il caricatore. Nemico! Nemico! Campo del caldo. Temici nel perimetro. Caricato. Sostituisco il caricatore. Nemico! Contatto! Versagli multiple qui! Stai a fare! Dove stanno? Dove stanno? Granata partita! Prossima postazione evidente, state fuori. Postazione continua, speratela. Area bersaglio aggiornata, raggiungete la postazione. L'ordine di disturbo è attivo. Lancia una granata! Appia le auto in zona. Granata partita! Granata partita! Versaglio a una delito! Ressano 10 secondi! Versaglio a distante! Versaglio a distante! Versaglio a distante! Risparano! Ado qui! Nemico! Guarda dove spari! Nemico qui! Ti conto. Stazione compromessa! E poi si appare! Passa! Mi riusci nel perimetro! Guardi di di sotto alleato! Guarda dove spari! Guarda dove spari! Stazione compromessa! Libera! Stazione spostata! Conquistate l'area bersaglio! Lancia una granata! Siamo a sangue! Sto ricaricando! Sto ricaricando! Cambio caricatore! Stazione compromessa! Guarda! 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 Stazione! Sto ricaricando! Guarda! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.